Ciao a tutti! Tre frasi che fanno sciogliere gli uomini e li fanno innamorare di te. In questo video voglio parlarti di tre frasi che fanno di fatto sciogliere gli uomini, li fanno innamorare di te. Quali sono queste tre frasi e come utilizzarle? Prima iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E veniamo al tema tre frasi che fanno sciogliere gli uomini e li fanno innamorare di te. Allora, intanto devi tenere presente che se vuoi far sciogliere un uomo devi interagire con lui ma non essere petulante, non essere estremamente presente. Perché l'eccessiva presenza, l'eccessiva, diciamo, essere eccessivamente appiccicosa, essere eccessivamente, diciamo, prolissa, scrivere un sacco di robe, è estremamente negativo, non dà nessun vantaggio. Quindi la cosa che devi fare è restare, in generale, questo poi vediamo le tre frasi, restare un po' sulle tue, non cercare di volere a tutti i costi le sue attenzioni, anzi, per ottenere le sue attenzioni devi utilizzare la psicologia inversa, devi negarli le tue, questo è la cosa fondamentale. Se impari a prendere le distanze, questo è il primo passo, il primo punto fondamentale che può far innamorare un uomo. Devi però avere la forza di non essere bisognosa, questo è un altro dato di fatto fondamentale. Perché se tu tendi a essere bisognosa, se tu tendi a voler a tutti i costi, diciamo, ottenere dei risultati facendo pressing, i risultati li otterrai, esattamente il contrario a quelli che vorresti ottenere. Allora, quindi l'interazione deve essere un'interazione limitata nel tempo, cioè non devi surclassare di messaggi, altrimenti tutti questi messaggi non verranno neanche percepiti, non li guarderanno neanche più, diventeranno fastidiosi, diventeranno veramente fastidiosi. È molto importante mantenere altamente e tranquillamente le distanze. Allora, la prima cosa che devi fare, la prima cosa che devi fare è fargli un complimento su un difetto. Questo gli genera uno stato di trance, diciamo, perché non riesci a capire se lo prendi per il cu oppure se è la verità. Un difetto può essere, non lo so, ad esempio, se questo fa un lavoraccio per dire, ah, il muratore, il catramista o qualcos'è, il J.C. ah, mi piace proprio il tuo lavoro, che bel lavoro che fai. Proprio più il lavoro è schifoso, più di là, che bel lavoro che fai, interessante però. Come si svolge, cosa fai? Per fare un esempio. Oppure su un qualcosa di fisico, se, che ne so, è secco come un chiodo, diciamo così, e gli dici, eh beh, è bello, ah, mi piace come mantieni bene la linea. E lo stesso discorso, se, che ne so, se si veste male, per dire, veste come un portuale, diciamo così. Quindi, ubriano, scherzo, nulla che non ti importa. Però, veste in maniera, diciamo, molto trasandata, eccetera, tu fai un complimento sull'abbigliamento. Ah, beh, che bel vestito che hai, mi piace come ti vesti. Hai gusto nella scelta dei vestiti. Se ha una voce stridola e schifosa, dili, ah, che bella voce che hai, mi piace la tua voce. Se ha gli occhi un po' strabici, dici, che belli occhi che hai, che belli. Quindi, ecco, quindi, questo, fare un complimento, diciamo, diretto su un suo difetto, è veramente, è veramente lo destabilizza, no? Perché se tu lo fai seriamente, diciamo, questo non riesci a capire, no? E ogni volta che vai in tilt la parte logica, tieni presente questo che tende a emergere la parte emotiva. E ogni volta che emerge la parte emotiva, la parte logica viene destrutturata. C'è proprio questa ambivalenza, diciamo, tra parte emotiva e parte logica. Quindi, quello che tu devi imparare a fare è a, diciamo così, destrutturare la parte logica. Destrutturando la parte logica, saprai che emerge la parte emotiva. La parte emotiva è quella parte per la quale tutto è possibile, quella parte che, diciamo, necessariamente si coinvolge, necessariamente si innamora. Noi non possiamo far innamorare qualcuno agendo sulla sfera logico-razionale. Sulla sfera logico-razionale tieni presente che nessuno si innamorerà di te. Quindi, questa è la prima cosa. La seconda, le seconde frasi, diciamo che è una classe di frasi, una categoria di frasi, è quella di imparare, riuscire a parlare di quelli che sono i suoi turbamenti, di quelli che sono le sue paure, sai che, ad esempio, o quelli che sono i suoi conflitti. Se sai che lui ha un brutto rapporto con sua madre, parla di madri, parla di, ah, la mia amica con il suo bambino. Insomma, devi raccontargli delle metafore che vadano a, diciamo, in qualche modo a tirare di fuori quelli che sono i suoi turbamenti, quelli che sono i suoi tormenti, quelli che sono le sue ansie, le sue preoccupazioni, perché sono tutte fonti di approvvigionamento emotivo. Il principio di fondo è che le fonti di approvvigionamento emotivo sono quelle che coinvolgono, perché sono quelle che danno emozioni. Quindi questo, devi tenerlo presente, è un fatto fondamentale. E la terza cosa, la terza tipologia di frasi, è, diciamo, è una frase che riguarda un po' l'esigenza del maschio di essere protettivo verso una donna. E quindi, ah, mi sento al sicuro quando sono vicino a te, con te mi sento protetta, mi sento bene. Ogni maschio ha questa tendenza qua, no? E non essere presente, se tu gli dici questa frase del genere, tende a innescare fortemente dei sensi di colpa. Per cui è un'altra frase, questa, che ha un grande appeal dal punto di vista dell'innamoramento. È molto utile. Bene. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonando ti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminar dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.